Restiamo sul tema dei benefici agli immigrati con l'assegno alle famiglie numerose allargato anche a chi non ha la cittadinanza italiana. Su questo argomento il nostro inviato a Roma Davide Cordua ha intervistato la senatrice Erika Stefani. È ufficiale, l'assegno per le famiglie numerose concesso dai comuni spetta anche ai cittadini stranieri. Unica condizione devono essere in regola con il permesso di soggiorno. A dire una parola definitiva in favore degli immigrati è la legge europea 2013, la stessa che ha aperto agli stranieri l'accesso ai posti della pubblica amministrazione. E anche questo lato una sorpresa per certi versi all'interno di questa legge comunitaria, una sorpresa per l'Italia, una sorpresa negativa. È previsto in questa norma che anche a favore dei cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno sia previsto un contributo che sarà erogato poi direttamente tramite il comune. L'articolo 13 della nuova legge stabilisce che l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori spetta oltre che ai cittadini italiani e comunitari anche a quelli di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Costo della manovra 15,7 milioni di euro fino alla fine del 2013 e 31,4 al decorrere dal 2014. L'importo dell'assegno varia in base ai numeri di componenti e al reddito delle famiglie e viene rivalutato ogni anno in base al costo della vita. Per il 2013 è di 139,49 euro al mese per 13 mensilità. Si tratta di un'altra ipotesi che sorvola e omette tutto ciò che è un riferimento alla cittadinanza. Quasi che la cittadinanza non fosse più un vero valore. Si parla di usoli, adesso di questi benefici perché in possesso del permesso di soggiorno. Si parla anche dell'accesso anche ai concorsi pubblici da parte di chi ha solo il permesso di soggiorno e non la cittadinanza italiana. Ecco, sono tutti degli eventi che sono gravi. Gravi perché vengono proprio a svalutare quello che è un requisito di appartenenza proprio ad una nazione quale la cittadinanza. È un riconoscimento di un'appartenenza proprio ad una cultura, una cultura proprio del vivere civile e del vivere sociale.